e ne sai ma guarda che io sono pronta bravissima Giorgina un evento più unico che raro ma scusa pronta per cosa? ma dai ma non mi vedi scusa guarda un po' ma capito vuoi predire il futuro? ma che futuro? ma non vedi che sono pronta per andare a farmi i miei allenamenti di calcio? di calcio? quello sarebbe un pallone scusa ma a casa ce l'ho quello vero questo è un pallone simbolico così per allenamento fuori sede si ho capito quindi in questo momento tu stai facendo la parte di quella che non vedi l'ora di giocare a FIFA 14 guarda talmente nella parte che pensavo di dedicare la nostra top 5 proprio a FIFA 14 accontentata beh amici per giocare a FIFA 14 dovrete saperne davvero un sacco perché ci sono tantissime nuove feature dalla fisica della palla ai nuovi contrasti al pure shot insomma un vero capolavoro io vado ad allenarmi ciao brava e ricorda di comprare anche un vero pallone FIFA 14 sta sbaragliando ancora una volta qualsiasi concorrenza dominando le charts di vendita mondiali uno sportivo solido, eccellente nel gameplay e ricchissimo di contenuti e modalità in attesa del passaggio al nuovo motore EA Ignite che sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One gustiamoci la top 5 dedicata al miglior FIFA di sempre rispetto a FIFA 13 i movimenti dei giocatori sono stati completamente stravolti se la loro reattività non cambia a cambiare invece è il peso e dunque l'inerzia per un comparto animazioni incredibilmente realistico dribbling nello stretto, cambi di direzioni durante gli scatti FIFA 14 surclassa in tutto e per tutto il predecessore stravolgimento anche sul fronte tiri grazie alla nuova fisica del pallone ogni tiro cambia assecondando postura, velocità, forza e precisione del giocatore e del calciatore virtuale terre a raso terra velenosi spioventi da brivido bolidi di esterno ad uscire e conclusioni con l'effetto autentico un clamoroso passo in avanti rispetto a FIFA 13 cambiamenti radicali anche per la carriera da allenatore grazie alla possibilità di usufruire nel corso dell'intera stagione di sei scout deputati alla cernita dei migliori talenti in giro per il mondo un modo del tutto nuovo e decisamente all'inglese di affrontare stagione e mercato per un appagamento ancora più netto pur senza scomodare la next gen FIFA 14 si dimostra solidissimo grazie ad una modellazione poligonale sempre efficace a ottime texture al comparto fisico e ad animazioni al top della categoria un vero spettacolo che spreme al massimo PlayStation 3 e Xbox 360 la completezza del titolo EA Sports è come sempre eccelsa FIFA 14 si dimostra altrettanto competitivo con la presenza di Ultimate Team impreziosito dalle glorie del passato da un ottimo multiplayer e dalla stagione co-op per affrontare con un amico tutte le fatiche di un'intera stagione agonistica